Patrimoniale sì, patrimoniale no. Che cos'è una patrimoniale? La patrimoniale è una tassa indistinta che va a beccare di solito patrimoni immobili e immobili, quindi bonci, cct, titoli e via dicendo, ma soprattutto gli immobili. Allora, perché la patrimoniale sì, perché patrimoniale no? Allora, chi si vota a favore del si dice, ah, ci vuole equità fiscale, che ha di più, scusate, equità, diciamo, morale, sociale, che ha di più deve dare. Quelli invece che hanno di più dicono, sì, ma sono già stati tassati prima, quindi cosa fai? Mi continui a ritassare su roba già tassata? E quindi c'è un po' questa diatriba. Ora, secondo me, mia opinione personale, se fatta con i numeri che vengono dichiarati, quindi lo 0,2%, che ancora non è chiara quanto sarà, come sarà, come sarà fatta, siamo in una situazione difficile e secondo me bisogna in qualche modo mettere un po' mano al portafoglio. Che poi, soprattutto per chi come me ha tante azioni e cose di questo genere, diventa un problema anche le azioni della società quotata, che non sono una cifra elevatissima, però quando lo fai per 0,1 o per 0,2 potrebbero anche essere cifre molto, ma molto importanti. Quindi, come nascono? Beh, la prima, se volete un po' di storia sulla patrimoniale, la prima patrimoniale credo che sia stata messa nel governo Nitti nel 1919 e serviva per sostenere delle spese di guerra. Poi c'è stata una patrimoniale sulla guerra dell'Etiopia, ci sono state tutta una serie patrimoniali, fino a quando il governo Monti ha trasformato quello che doveva essere un'imposta straordinaria sugli immobili in un modello di tassazione costante. Ecco, cosa ne penso io delle tasse in Italia? Allora, c'è un problema, che l'Italia è un paradiso fiscale per alcune cose e invece è un disastro per altre. Quindi paradiso fiscale dove? Beh, ad esempio nelle successioni, in successione in Italia si paga quasi niente, cosa che invece negli altri paesi si va da un 33 fino a un 50%, quindi se uno muore e ha due immobili, un immobile lo deve dare dentro il fisco, senza il fatto del primo milione, secondo milione, cose di questo genere. L'altra tassazione particolare deriva dal network marketing, ad esempio la vendita porta a porta è una tassazione flat, cosa strana per qualunque parte del mondo. E poi invece ci sono alcune tassazioni che sono esagerate. Ecco, il vero problema, credo, delle tasse non è tanto il fatto di pagare o non pagare, ma il fatto di avere l'impressione che vadano dentro un grande calderone, come una specie di buco nero che se le risucchia tutte. Quindi ecco perché tante persone magari come me, che potrebbero essere favorevoli alla patrimoniale, poi si incazzano e dire ok, sì, ma poi questi soldi dove vanno? Come sono gli sprechi? Non so se lo sapete, sembra che da uno studio gli sprechi dello Stato siano il doppio, il doppio di quello che è l'evasione fiscale. Quindi si calcola, vado a memoria, 100 miliardi di evasione fiscali, lo spreco dello Stato è circa 200 miliardi. Quindi se si mettesse mano seriamente allo spreco dello Stato, lo spreco vuol dire anche tante cose. Ad esempio, non so se avete mai avuto a che fare con i tribunali, la maggior parte delle cose che vengono fatte lì sono inutili. Ma perché devo andare a disturbare un tribunale per due persone che hanno un condominio e litigano per la chiave del cancello, se aprire o non aprire? Ecco queste cose. Oppure perché non fare tutta una serie di cose molto automatizzate all'interno? Lì si risparmierebbero tempo, si avrebbe una giustizia più efficiente, ma soprattutto si risparmierebbero decine e decine di milioni di euro. Perché quando due avvocati si mettono d'accordo, una causa è chiusa, bisogna andare, depositare, il giudice che fa il dispositivo, cioè ma è una roba fuori di testa, non ha nessun tipo di logica. Quindi la patrimoniale serve per sistemare un po' i danni che il Covid sta generando alle casse italiane. C'è un modo per proteggersi la patrimoniale? Questa è la domanda che mi fanno più frequentemente. La risposta è, sembrerebbe che questa patrimoniale tocchi solo chi ha più di 500.000 euro, e di solito una patrimoniale fatta bene no. Come nel governo Amato hanno detto c'era patrimoniale e il giorno dopo hanno tassato tutti i soldi che c'erano sul conto corrente, se non mi ricordo male, del 6x1000. Quindi se viene fatta correttamente una patrimoniale non c'è modo di schivarla, perché è retroattiva, ti dicono i soldi che avevi un mese fa te li tassiamo. Quindi che cosa fare? Niente, adattarsi semplicemente a quello che accade. Ci sono sempre poi dei modi per ottimizzare il carico fiscale e fare in modo che in Italia sia un posto corretto per le tasse e si paghi una tassazione corretta. Quindi ci sono mille modi, agevolazioni, bandi, cose. In questo momento secondo me arriverà quello che viene chiamato un helicopter money, perché bisognerà dare uno stimolo. Ci sono troppe persone, troppe categorie, troppe centinaia di migliaia di persone che probabilmente andranno in crisi appena vengono tolti gli aiuti di Stato. Anche quei pochi soldi che vengono dati con la cassa integrazione, provate a pensare quanti locali non riapriranno. Io faccio un conto che almeno un terzo di questi locali. Quindi è giusto avere una patrimoniale? Personalmente ritengo di sì. È giusto che lo Stato sia uno Stato così sprecone? Questa cosa è la cosa che mi preoccupa di più. Però se c'è bisogno di dare una mano, bisogna dare una mano. Quindi se avete fatto i nostri corsi e guadagnate e avete più di 500 mila euro di patrimonio, sappiate che potrebbe costarvi qualcosa. Ciao!